Grazie a tutti per aver camminato tantissimo per Milano. Grazie a tutti per aver guardato il video. Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ha detto che me le fa anche gratis. è una... che è una... e io le porto dalla Sardegna e comunque è arrivata l'autorizzazione approvata. mi mandano... mi mandano... facciamo che... facciamo che... facciamo che... senti... quello che bisogna fare... è una... è una... e poi... stiamo... se io... se io non riesco... a stare... a stare... a stare tanto... e... 15 euro... e... 15 euro... wow... e...